Il passato, che spesso studiamo solo nei libri di scuola, a volte ci concede delle testimonianze dirette. E questo è il caso della storia della famiglia Colombo, che visse per due anni nascosta a Santa Maria di Nonna. Da dove proveniva questa famiglia ebrea? Padova, precisamente dal ghetto via San Martino Sulferino. E di quante persone era composta? Era composta da suo padre, Colombo Aldo, e sua mamma, che non ricordo il nome, lui che si chiamava Vitaliano e la fidanzata Urtensia. All'epoca avevamo 20 anni, abbiamo visto questa gente così, noi l'abbiamo accettata bene e volentieri, perché sapevamo che la guerra era brutta e loro erano venuti per ripararsi dalla guerra. Negli 15 giorni capitavano i rastrellamenti, capitava magari qualcosa, io lo so, io facevo i rastrellamenti, magari se caglava un paracadutista, io voglio venerlo, se non ne ho trovato anche uno, tutti nascosti bene. Questo Vitaliano si aveva fatto una buca, nel fondo del campo nostro, una buca profonda, profonda così, a lungo, come una tomba, e lui si ficava dentro là, e tutto il tempo del rastrellamento, anche fino a notte fonda, che restava, e stava sempre qui e tu, noi altri di Nascosto ne portavamo una frittatina, una fetta di polenta, poverino, e lui stava sottolando. Non so, io ci appava io, si ci appava, ma e me finiva anche noi altri, e me bruciava, e me copava tutti, e c'è stata una fortuna proprio, il Signore mi aiutava. Sì, sì.